Shalom 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 Eccoci qui con un'altra lezione e prima di iniziare voglio ringraziare e dare tutti i lodi dovuto al Padre Yahawa nel nome di suo figlio e nostro re, rendentore e salvatore Yahawa Shai Ok, mi do più onori agli apostoli e anziani della Great Mewstone per avermi insegnato questa verità e come sempre pace e miei saluti alla Casa di Israele a coloro che con sincerità cercano questa verità e coloro che lavorano in questi ultimi giorni nella vigna del Padre affinché la verità possa arrivare ai quattro punti della Terra Questa lezione sarà basata sul vaccino e dopo questo video comincerò a censurare quella parola lì e invece di usare quella parola userò la parola V e tutto questo perché YouTube sta facendo dei controlli molto più stretti Ok, e coloro che stanno spargendo questa verità come me i fratelli della Great Mewstone la nostra verità va passata per i così chiamati parole d'odio AIDS speech e informazione falsa perciò ci bloccano il canale e ci eliminano questi video qui perciò per evitare ciò per quella parola là vaccino comincio a usare la parola V ok ho trovato questo articolo che è nel Corriere nel Corriere del 24 oggi è il 26 di due giorni fa ok Corriere perciò chi è interessato lo può anche trovare che dice il titolo coronavirus e l'obbligo vaccino è pericoloso lasciare questo virus in circolazione ecco perché ora che sono addirittura ad arrivo i primi tre candidati vaccini che ha opzionato anche l'Italia e che si inizia a studiare quale potrà essere il piano vaccinale è scatturito il dibattito sull'opportunità o meno di rendere il vaccino anti-covid obbligatorio per tutta la popolazione o almeno per alcune categorie andiamo avanti il fonte istituzionale verso la raccomandazione non c'è un orientamento per l'obbligo del vaccino ma la raccomandiamo ha detto il presidente del consiglio Giuseppe Conte queste sono le sue parole non c'è un orientamento per l'obbligo del vaccino ma lo raccomandiamo ok? e voi sapete che in un video in passato vi ho fatto vedere cosa significa la parola gradualismo ok? ora non vado a rifarvelo vedere basta scrivere la parola gradualismo la parola gradualismo è vedere il significato è un processo ed è il processo che lo Stato usa prima di fare qualcosa te lo farà sentire ok? così il tuo succorcio è già abituato a sentirlo poi dopo da nulla così lo metterà lì ora stanno parlando dicono prima che no non facciamo l'obbligo ma il punto è che quello questo l'obbligo è è il punto importante per loro è quello che vogliono raggiungere ok? il ministro della salute Roberto Speranza su Rai 3 ha spiegato penso che con la persuasione e con una campagna vera riusciremo a raggiungere l'immunità di gregge sapete cosa vuol dire gregge ok? per le pecore perciò dovete guardare più profondo e capire i termini che usano ok? quando arriva il popolo perché per loro il popolo è solo gregge ok? il popolo è gregge non è altro siete siete degli stoccaggi dello Stato siete proprietà dello Stato e non siete altro diverso dagli animali ok? vi usano per comodità siete una comodità per lo Stato i vostri documenti attestano questo che siete proprietà di qualcuno l'immunità di gregge continuiamo a leggere Roberto Speranza su Rai 3 ha spiegato penso che con la persuasione e con una campagna vera riusciremo a raggiungere l'immunità di gregge senza l'obbligatorietà ma è evidente che dobbiamo raggiungerla vedete? dipuntano sempre all'obbligo ok? è evidente che dobbiamo raggiungerla quindi lo valuteremo in cosa d'opera Valta Ricciardi consigliere del ministro della salute per l'emergenza coronavirus lo ha escluso in caso di necessità di ordine pubblico e ha chiarito a Rai 3 per il momento anch'io ho consigliato di affrontare la strada della volontarietà per gli adulti è chiaro che se a un certo punto capissimo che per raggiungere l'immunità di gregge sempre sempre il termine gregge serve il 90 al 95% e non lo possiamo fare attraverso la strada della persuasione potrebbe presentarsi la necessità di un obbligo per cause di forze maggiori ok? avete visto queste sono delle interviste che hanno lasciato su diversi canali Rai 3 la 7 e questi sono loro ok? che fanno queste decisioni qui sono loro che governano ok? avete visto il consigliere del ministro della salute ok? necessità di obbligo per causa di forze maggiore cioè per non bloccare completamente l'economia e la mobilità perciò loro useranno questa scusa per non bloccare completamente l'economia e la mobilità ok? e vi faranno diventare sempre più gregge ok? ok? io voglio farvi vedere qualcosa di molto importante il motivo prima di tutto di questo V ok? allora c'è una gene presente in noi umano e questa gene si chiama il gene di Dio allora io ho fatto una ricerca poco prima in inglese si chiama la God gene ok? e ho provato a mettere metterlo nella lingua italiana ma indovinate non è presente perciò questo questo articolo in italiano non lo posso leggere in italiano perciò non voglio far capire al pubblico al greggio italiano che esiste una cosa che si chiama la God gene che è un gene presente oh come mai? eccoci scusatemi c'è un gene presente ok? in ogni umano e questo gene si chiama gene di Dio ok dovrei essere connesso adesso scusatemi vedete se lo metto in lingua italiana non c'è italiano vedete che non c'è bene comunque ho fatto ricerche altre ricerche e ho visto questo articolo ok? anche questo signore l'ha parlato nella lingua italiana allora così posso farvi vedere cosa vuol dire si trova su questo sito giorgionadali.com ok? questa roba qui ma perché non riesco più vedete ma perché fa questa roba qui ecco fede e genetica i gene di Dio bene c'è qualcosa che ci impedisce da leggere questa roba qui e vedete provo a andare su qualcosa ci impedisce di leggere questo articolo qui ok? ci sono anche libri scritti vediamo qui il gene di Dio siamo programmati per credere l'articolo di Saracestau pubblicato sul sito del settimanale cattolica la via Francia nel 13 agosto 2003 liberamente tradotto da Domenico Affiero la scienza cerca di trovare la traccia della fede nel cervello umano ma il religioso non si lascia schiacciare facilmente come vedremo in questa inchiesta abbiamo un interruttore di vino in testa una parte del cervello una disposizione particolare dei neuroni che permetterebbe di identificarci come credenti o meno gli studiosi soprattutto negli Stati Uniti anni 80 e poi lavorano su questa ipotesi ecco la ragione della nascita di un campo originale di ricerca la neurologia il genere di Dio Dean Hama questo Dean Hama se l'andate a leggerlo in Wikipedia è lui che ha fatto questa scoperta qua un genetista americano nel 2005 sostiene di aver trovato il genere di Dio il quale determina il nostro potenziale genetico a credere o meno mille volontari per dar prova dell'esistenza del genere rispondono a un questionario sulla loro affinità religiosa questo studio però non è stato mai pubblicato su una rivista scientifica la sfida dei ricercatori di neuroteologia senza voler straffare e riuscire a identificare se non un punto ben preciso almeno una regione del cervello che abbia un'attività specifica durante l'esperienza religiosa infatti nel 1999 gli americani Andrew neologo e psichiatra aspettative se volete capirne di più fate le vostre ricerche ok comunque questo genere presente nel noi negli umani ok il genere di Dio si chiama il genere di Dio e si trova nel cervello e c'è un altro nome che è la V-A-T questo è il suo termine eccolo qui V-M-A-T-2 ok questo genere è così anzi proviamo a scrivere proviamo a scrivere proviamo a scrivere V-M-A-T-2 qui anzi scriviamolo in Wikipedia perdonatemi ok ecco vediamo se è presente in italiano e come sempre vedete qualcuno non vuole che queste informazioni siano disponibili in tante lingue di solito queste cose sono disponibili in tantissime lingue ma si vede che alcune ricerche sono censurate comunque andiamo avanti vi ho fatto vedere queste cose qui infatti questo V che hanno fatto è per combattere contro questo gene ok una volta che prendete questo V andrà a combattere contro questo gene che è dentro di voi che è il primo è la prima persuasione che vi porterà a ricevere il microchip ok che è quello la seconda fase di tutto questo lavoro dei malvagi dei figli dei malvagi ok ecco qui conoscenza e saggezza coloro che hanno la saggezza che pregano affinché possano capire queste cose qui ok ora andiamo a leggere un po' di scrittura perdonatemi perdonatemi telefono ok scusatemi eccoci qui e iniziamo leggendo dal secondo corinzi secondo corinzi capitolo 2 e dal versetto 11 che dice affinché non siamo raggirati da satana infatti non 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 ignoriamo le sue macchinazioni ok altre versioni vi dirà che non siamo ignoranti delle sue macchinazioni ok queste cose i vacci i V e tutto il resto il micro ci sono le sue macchinazioni ok perciò non cadete non cadete per questo inganno qui leggo dal libro di Giovanni ops libro di Giovanni libro di Giovanni capitolo 10 capitolo 10 e leggo punto è a versetto 10 ma inizio dal 9 io sono la porta questo è figlio del padre Yahawashai io sono la porta se uno entra per me sarà salvato entrerà e uscirà e troverà pastura il ladro non viene se non per rubare ammazzare e distruggere e chi sono questo chi è questo ladro di chi sta parlando sta parlando dei figli dei malvagi ok sono loro al comando ora ok sono loro in comando allora e che cosa vengono a fare vengono a rubare ammazzare e distruggere ok queste sono le cose che hanno sempre fatto in tutta la storia rubare territori degli altri raccontare bugie ok e rubare l'identità degli altri bugie dopo bugie e ammazzare ok e per chiudere leggo sempre da questo libro capitolo 8 leggo da versetto 44 che dice voi siete figli del diavolo che è vostro padre e volete fare i desideri del padre vostro egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità perché non v'è verità in lui quando dice il falso parla di quel che è suo perché è bugiardo e padre delle menzogne ok perciò questa gente che vedete qui Giuseppe Conte Roberto Speranza Valtar Ricciardi tutta questa gente ok sono figli di Satana fidatevi ok perché sono qui per compire il lavoro di Satana raccontano menzogne e creano una sorta di trappola per ognuno di voi ok ricordatevi che dai prossimi video userò la parola V quando dobbiamo parlare del vaccino ok detto questo spero che siete stati edificati e lascio tutto questo nel sacro nome del padre Yahawa nel nome di suo figlio il nostro re rendentore Yahawa Shai i miei doppi onori agli apostoli anziani della Great Mewstone per avermi insegnato questa verità e miei saluti pace alla casa di Israele a Nuntezo e ai 144.000 eletti sparsi in tutti i quattro angoli della terra ok alla prossima Shalom allah